un minuto guarda non lo so fare sta cosa no perchè non lo stesso ma non si parla ma vado ma vado ma ti dico buona ma non lo fai ma cazzo da te perché ti può affermi la batteria è un classico ahahahahah dai cittadini dai cittadini La chitarra è un'associata per prendere nota. Al video non l'avevamo fatto, c'è più stacchissimo. Al video ho avuto un minuto con un piano. E' un piano di classico. Stai se mi rovini la fonda chitarra. E' anche la macchina del fumo e lo stroppo di chitarino. In assenza di altro, ma lo so. Lo so, lo so. Lo so, lo so. Lo so, lo so. E' un sapore che si chiama. Oh, non so. Ok, questi sapore che sono. Ah, allora. Ma è l'angelo? Si, no, per dire. Un sapore che non si chiama. No, non si chiama. Mi sta chiamando, c'è, c'è, c'è. Mi chiamai il fatto? No, non si chiama. No, non si chiama.